Non c'è allarme, il protocollo di disinfestazione previsto in questi casi è immediatamente scattato. In via 4 novembre a Ronchi dei Legionari in provincia di Gorizia sono intervenute le squadre per eliminare eventuali larve di insetti adulti dopo che si è registrato un caso di febbre dengue. Una donna di 36 anni di rientro da un viaggio in Thailand ha sviluppato una febbre per la quale è stata ricoverata all'ospedale di Cattinara a Trieste. Le sue condizioni sono buone ma nel quartiere dove abita è stata attivata la sanificazione per rebellare la presenza dell'insetto qualora fosse stato importato dalla signora. Non c'è nulla di cui allarmarsi, sono delle malattie che purtroppo facendo dei viaggi all'estero possono essere importate ma ci sono già dei protocolli a livello nazionale e a livello regionale che nell'arco di 12-24 ore quando una persona viene riscontrata che presenta i sintomi della malattia partono appunto questi protocolli di emergenza per abbassare l'eventuale presenza dei zanzare e quindi il rischio di contaminazione e non sussistono dal 2004 ad oggi situazioni endemiche all'interno del territorio della zona del nord Italia. Quello scattato è un protocollo previsto in questi casi ed attivato dal comune. Il sindaco è responsabile, lo ricordiamo, della salute dei cittadini. Abbiamo effettuato nella giornata di oggi un trattamento larvicida per quanto riguarda un raggio di 200 metri dove c'è stato un caso di persona che ha importato una malattia che è definita la dengue, malattia non estremamente preoccupante, si è provveduto nella giornata di oggi ad effettuare il trattamento larvicida in tutte quante le aree private all'interno di questo raggio di 200 metri. Nella notte passata dalle 22 alle 00 si è fatto invece un trattamento adulticida contro gli adulti di zanzara sempre nel raggio di 200 metri e naturalmente sono stati trattati anche tutti quanti i pozzetti delle aree pubbliche. Tenevamo a precisare che i pozzetti vengono comunque eseguiti, i trattamenti larvicidi da parte del comune di Ronchi dei regionari tutti quanti i mesi, una volta al mese, da aprile fino alla fine del mese di ottobre. La dengue comunque non è una febbre pericolosa. La dengue ha un decorso abbastanza veloce con una settimana di febbre abbastanza lieve, dolori articolari che dopo si possono prontare anche per il periodo successivo ma non è sinceramente d'allarmismo. E' bene però tenerla sempre controllata perché se si andasse a sviluppare presso altre persone darebbe dei problemi dal punto di vista sanitario con dolori e febbri a più persone.